E ciao a tutti qui da Abel AFC, in questo video andiamo a vedere insieme alcune strategie su come ripartire il proprio budget per l'asse di fantacalcio, di come dividere il budget per le tue leghe di fantacalcio. Ma prima di partire mi raccomando iscriviti al canale, lasciaci un bel like qui sotto così ci aiuta a crescere, vai a vedere nel link in descrizione fantacalcio pro e se vuoi puoi lasciare anche un commento per aiutarci. E la prima strategia che vediamo su come dividere il proprio budget al fantacalcio è la strategia conservativa. Perché viene chiamata conservativa? Perché qui si punta su una difesa top, quindi consigliabile quando ci sono nella Lega impostati dei modificatori dedicati al reparto difensivo. Quindi avrai meno probabilità di prendere dei malus dai portieri e difensori e più probabilità di ricevere molti bonus da loro. Dipende da modificatori impostati dalla Lega ovviamente. Qui abbiamo messo portieri 15%, difensori il 25% del budget, centrocampisti il 30% e attaccanti il 30%. In molti casi poi dipende anche dalla Lega se ci sono i modificatori se attintanti io alzerei anche un po' il budget per i difensori. Cioè toglierei qualcosina dal centrocampo e metterei qualcosina in più per i difensori. E la seconda strategia che vediamo oggi è quella equilibrata, la più sicura, diciamo quella più utilizzata da quelli più esperti al fantacalcio. Qui non c'è un reparto più forte di un altro ma il livello sarà molto simile tra di loro. Ti dà più sicurezza e meno rischi. Quindi un modulo consigliato può essere il 4-3-3 o il 3-4-3 classico. Però qui la percentuale viene suddivisa su 10% per i portieri, difensori il 20%, centrocapista il 30% e attaccanti il 40%. Vi consiglio di utilizzarla diciamo quando siete in molti in Lega. Perché questo? Anche se siete esperti, anche se comunque è quella più utilizzata, quando siete in meno, quindi siete pochi fantallenatori in una Lega, mettiamo che siete in 8, in 6, soprattutto in 6, la strategia equilibrata diventa troppo equilibrata. Infatti in questo caso dovete spingervi oltre e puntare di più sull'attacco, quindi spendere molto meno in difesa e al centrocampo e puntare più sull'attacco. Ma quando vi trovate invece in una Lega con molti calciatori, molti fantallenatori, scusate, meglio non rischiare e questa strategia equilibrata, con queste percentuali, ti dà più sicurezza e anche se non sei un esperto di fantacalcio, te la consiglio perché sbaglierai meno. Ci sono meno rischi rispetto ad altre strategie. E la terza strategia è quella offensiva. Quindi qui in questo caso vogliamo offendere, vogliamo prendere molti attaccanti o meglio attaccanti di qualità. È una strategia più rischiosa di quella equilibrata, come vi dicevo, ma se trovi i giocatori giusti, anche nei reparti offensivi e difensivi, con il budget disponibile, questa strategia ti può dare più probabilità di vittoria. Perché se sei bravo all'inizio spendendo poco ma prendendo comunque buoni difensori, poi avrai un sacco di budget per puntare sugli attaccanti. E sappiamo che le persone sono molto più propense a spendere di più sugli attaccanti, al centrocampisti e anche a naturale perché sono quelli che ci possono regalare più bonus. Però fate attenzione a questa strategia perché se siete in una lega con fontallenatori molto esperti, loro cosa riescono a fare? Spendendo poco prendono giocatori forti anche in difesa e come portiere e anche al centrocampo perché conoscono bene il calcio, hanno studiato bene, capiscono le strategie e come giocheranno i calciatori. E quindi ti ritroverai vero con più budget per gli attaccanti. Non sempre ma nella maggior parte dei casi. Ma non basterà perché significa che avrai anche un top in attacco, anche due, ma il resto della squadra prima è stato fatto male. Quindi attenzione, se siete in una lega con pochi giocatori questa strategia deve essere utilizzata anche quasi per forza di cose, ma se siete in una lega di 10 o 12 persone e anche brave, attenzione, con questo budget fate molta attenzione. Invece quest'ultima strategia, chiamata strategia all-in, è da pazzi. Da fare soltanto come gioco, è più diciamo come divertimento perché farei fatica a vincere la fontacalcio. Oddio, qualche volta qualcuno ci è riuscito, ma io ve l'ho messo soltanto se volete veramente fare qualcosa di veramente matto, qualcosa di veramente strano, perché è una strategia che non vi fa di solito vincere, ma vi fa divertire da matti. E quella strategia si chiama all-in perché si rischia tutto su due o tre top player in attacco e almeno uno al centrocampo e tutti gli altri li devi prendere a un fantamiglione. Quindi dovete spendere per i portieri, i difensori e molti centrocampisti, se non tutti, un fantamiglione e poi tutto il resto del budget su due o tre calciatori. Perciò è una strategia pazza, è giusto per giocare, per divertirci, anche se so che qualcuno ci è riuscito a vincere, ma sono sicuro che è riuscito a vincere perché ha giocato in una lega dove gli altri non erano molto esperti. Quindi è riuscito a prendere a uno giocatori molto forti anche in difesa, al centrocampo, anche qualche portiere titolare e poi diciamo che con gli attaccanti poi ha massacrato tutti perché ne ha presi due o tre top player comunque da 20 e passa gol perciò era quasi scontata la vittoria. Ma è un caso molto molto raro che di solito con questa strategia devi fare veramente pazzie e non riesci a dare una... non è equilibrata per niente, anzi è troppo squilibrata. Bene e per questo video è tutto, mi raccomando iscriviti al canale, lascia un bel like qui sotto, aiutaci a crescere, vai a vedere nel link in descrizione del Fantacaccio Pro e ci vediamo presto qui da Abel AFC. Ciao a tutti!